al castel di camelotto manca il pro dell'ancillotto ma può fare? presto andatelo a cercare per cercare l'ancillotto guarda mondo galeotto cosa deve fare un re capo arriva un carro armato fuoco chi è sto kamikaze qua? io sono rearto madonna prigionieri hanno fatto il re all'assalto andiamo il nemico si fa sotto fuoco mondo galeotto non c'è più una munizione spara quello col cannone fuoco carica il nemico è rotto mamma aiuto l'ancillotto arriva l'ancillotto arriva l'ancillotto arriva l'ancillotto grampavesi dorati appetitosi sempre freschi grampavesi come un buon pane leggero leggerissimo in tavola grampavesi leggeri leggeri così leggeri per sentirsi leggeri viva la leggerezza viva grampavesi grazie a tutti